Grazie Presidente, colleghi. Il regolamento finanziario è il motore dell'Unione Europea e senza di questo la macchina amministrativa e politica si ferma. Noi non possiamo permetterci battute d'arresto e dobbiamo fare in modo che i principi fondamentali dell'UE siano parte attiva di questo regolamento. Il carburante che fa muovere l'Europa è e deve essere la tutela dello Stato di diritto e un controllo democratico e trasparente dell'uso di questi fondi. Nostra alleata in questo processo è la digitalizzazione. Con questo potremmo controllare la spesa dei fondi europei e potremmo garantire la comunicazione tra la Commissione europea e gli Stati membri. Potremmo combattere le frodi e anche gli abusi che purtroppo dilagano in tutta Europa. Facciamo di più anche sul conflitto di interesse. Nuovo male oscuro europeo. L'Unione europea ha grandi sfide davanti a sé e solo con trasparenza e regole chiare e verificabili possiamo metterla al servizio dei cittadini. Grazie.